Allora, adesso veniamo agli avvocati. Silvestri, voi dite che questa è una riforma che salva i colletti bianchi. Che vuol dire? Allora, la questione intanto che è stata detta prima della separazione delle carriere non è un tema, visto che abbiamo fatto un servizio che riguarda la cittadinanza, che la cittadinanza interessa. Perché lo dico? Perché questa storia delle separazioni delle carriere è già stata affrontata in un referendum un po' di anni fa, che ha avuto il più basso risultato della storia del referendum, il 13%. Quindi non è un problema della cittadinanza o che la cittadinanza avverte come tale, è un problema della politica. E io mi aggiungo alle perplessità e quindi anche alle preoccupazioni che venivano prima dette. Perché io credo che sia un tentativo ulteriore e trentennale di provare a controllare quello che è l'organo della magistratura. E io quindi ribadisco la preoccupazione su questo tema. E ovviamente tutto quello che si sta facendo sul tema della giustizia ci preoccupa altamente perché è una riforma che in nessun modo aiuta i tempi dei processi. Cioè non velocizza la giustizia? Non velocizza nella maniera più assoluta, non c'è nulla su questo. Anzi, in certe cose le complica adesso sull'interrogatorio preventivo addirittura i magistrati che devono interrogare diventano tre. Deve essere tre. Non è più uno, tre. Però sono previste 250 assunzioni, no? Perfetto, ma 250 assunzioni a fronte di una cosa che triplica... Chi interroga è sempre uno però, diciamo. Chi interroga è sempre uno. Sì, ma adesso ce ne vogliono... No, per essere precisi. Ce ne vogliono tre in ipotesi di richiesta di misura carceraria. Cioè per il carcere si è ritenuto che è meglio che siano tre a decidere anziché uno. E secondo lei 250 magistrati a fronte di una cosa che triplica invece l'impegno, sono pochi o sono tanti? Sono pochi, quindi si ingolferà la macchina. E questo è il punto. Guardi, abbiamo fatto i conti. Le avete fatti male i conti, secondo me. C'è un ministero che fa dei conteggi, che valuta, ha forse qualche potere in più rispetto al singolo e fa degli studi approfonditi. 250 magistrati spalmati in due anni saranno sufficienti ad evitare le incompatibilità. Che cosa voglio dire? Il Presidente Santa Lucia lo sa bene. Nei piccoli tribunali, se tu sei colui che ha disposto l'arresto di una persona, non puoi più giudicarlo. Quindi è ovvio che devi rimpolpare gli organici per consentire che ci siano altri giudici che possano giudicarlo. Secondo i nostri calcoli, giusti o sbagliati, ma ministeriali, 250 magistrati in due anni, solo per il primo grado, consentiranno di impattare questa riforma. E tra l'altro, concludo il ragionamento dicendo che, tra l'altro, proprio la questione dell'interrogatorio preventivo per noi è sbagliata. Perché una persona che può reiterare quel reato, adesso deve essere chiamata cinque giorni prima a dire puoi venire cortesemente a fare l'interrogatorio. Questo per noi è un principio assolutamente sbagliato. Quindi io credo che è la politica che si occupa dei problemi della politica e non delle persone. Lei dice che la politica sta facendo una riforma per salvaguardare la politica. Perché non migliorano i tempi del processo e i cittadini hanno già bocciato questa intenzione. Ma riguarda tutti, non riguarda soltanto i politici. No, riguarda tutti i cittadini. No, perché noi? No, voi in quanto voi. Ma voi in quanto politica? Prima di tornare al viceministro c'era Silvestri. Silvestri, voi siete pure contrari all'abolizione dell'abuso d'ufficio? Sì. Sì, perché è una tipologia di reato che ha avuto già una stretta molto efficace per quanto riguarda le modifiche. Quindi è molto più circoscritto ed è molto più puntuale a quelli che sono i reati. Io però devo dire una cosa importante rispetto al dibattito di prima. Perché poi chi sta a casa sul tema intercettazioni capisce e non capisce come giustamente rilevava lei. C'è un dato però significativo. Questa questione dell'abuso delle intercettazioni è già stata affrontata in un'audizione dove noi abbiamo convocato il garante della privacy e Scarpinato ha chiesto al garante della privacy dalla riforma Bonafede, cioè Orlando Bonafede Magistrato anche Scarpinato Esatto, attualmente senatore Attualmente orgogliosamente senatore del Movimento 5 Stelle ha fatto una domanda e ha detto ma dal 2020, quindi dalla riforma Bonafede che modificava la Orlando quanti casi di abusi ci sono stati al garante della privacy, non è che l'ha chiesto e il garante ha detto non ci sono stati casi quindi quello che diceva Santa Lucia è giusto rispetto ad un momento storico di cui si stava parlando che non è più l'attuale e ce l'ha confermato il garante della privacy quindi questo toglie ogni dubbio a chi sta a casa così facilitiamo anche un po' il discorso se no non si capisce una cosa solo sul tanto al chilo perché non mi va di entrare in polemiche di questo livello con chi è in collegamento ma questo è un suo linguaggio glielo lascio volentieri guardi questo è un suo linguaggio glielo lascio volentieri così chi sta a casa si fa un'idea non mi interessa questo tipo di roba quello che voglio dire è che noi abbiamo fatto le riforme di cui abbiamo parlato prima sulle intercettazioni e sulla stretta dell'abuso d'ufficio sono state fatte proprio dal Movimento 5 Stelle quindi noi siamo intervenuti su dei temi a fronte di cose che venivano denunciate da anni ma non c'è mai stato un intervento e noi abbiamo trovato una situazione non particolarmente brillante però mi dica una cosa a proposito di tanto al chilo e forse qui sì però ne avete fatte di peggio di riforme no noi ne abbiamo fatte di buone però a proposito di tanto al chilo una cosa quello che questa trasmissione non si è affrontato è quello che è successo rispetto a quello che Nordio il Ministro Nordio della Giustizia visto che parliamo di tanto al chilo ha detto a una festa di Fratelli d'Italia mettendo in discussione il concorso mi scusi se neanche interrompo gliel'ho fatta io questa domanda al Ministro l'ho intervistato io quindi no esatto in questo momento non se ne è discusso perché? perché quello che ha detto Nordio è gravissimo perché si sta mettendo in discussione una questione che è molto importante tanto quanto i reati per mafia e la si tira dentro e si dice che va modificata così in una festa senza mutilazione lei ha sentito il sottosegretario Mantovano che ha detto nella priorità ieri anche Salvini il leader della Lega ha detto non è una priorità e quindi il Ministro della Giustizia parla a proposito ha le sue opinioni che per l'altro sono opinioni che vengono dal tempo lontano quelle di Nordio sono gravi da questo punto di vista ho detto con molta chiarezza che in una riunione che si è tenuta presso il Ministero sul cronoprogramma il concorso esterno non c'è ma lei è d'accordo con quello che ha detto il Ministro? sul concorso sul concorso esterno rispondo subito il tema del concorso esterno e qui il Presidente Santa Lucia che è più bravo di me mi è testimone è una norma è una creazione giurisprudenziale di cui si discute da 25 anni cioè c'è un conflitto fra i puristi che dicono che nel nostro sistema una norma può essere introdotta soltanto per legge e non per giurisprudenza e si discute se questa introduzione per giurisprudenza è compatibile con il sistema fatta da Falcone e Borsellino no 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 assolutamente Falcone e Borsellino non c'entra niente Falcone e Borsellino scusate sono un'altra puntata quindi la facciamo quindi se non c'entra un'altra il procuratore di Palermo del Cia ieri ha detto che è un tema che bisogna obiettivamente discutere scusa non è la forma che ha detto Nordio sono due cose completamente diverse non è un tema politico è un tema tecnico-giuridico il punto è può esistere nel nostro paese una norma introdotta per divinazione giurisprudenziale e questo è l'altro discorso questo è il punto oppure ci vuole una legge che è una legge ma Nordio non intendeva questo Nordio ha detto esattamente questo ma non intendeva questo si è fatto carico di un problema storico che però ripeto non è nel programma se lo avete corretto non interrompere non è nel programma di governo non è non è è meno male questo è una grande notizia questo che penso è una battuta prendo atto che non è nel programma di governo non è nel crono programma di cui ha smentito il vice ministro non è nel crono programma di cui abbiamo discusso la scorsa settimana è una norma va bene? se non lo tocca se stanno a posto così va bene sto dicendo che nel crono programma consiglierei di limitare Nordio nelle sue affermazioni nelle sue velleità comunicative senza averne quell'abilità è un'opinione è un'opinione legittima è un'opinione legittima condivisa da chili di giurisprudenza di dottrina su un tema fondamentale si può introdurre una norma incriminatrice per giurisprudenza la risposta la la non è ha detto il vice ministro nel programma di governo nella riunione sul crono programma ditelo a Nordio così sgombriamo il campo dalmeno da questo forse non mi sono spiegato la prospettiva delle riforme come discussa nel crono programma di questa settimana non vede il concorso esterno poi l'opinione nella riunione tenuta la scorsa settimana speriamo che duri più di una settimana questa cosa io capisco che nelle vostre aspettative non volete riforme ma noi le riforme le faremo non le vogliamo così grazie per il vostro contributo che si è mantenuto nell'ambito di un dibattito più che civile grazie presidente della Tata Lucia grazie vice ministro grazie all'onorevole Silvestri